Pronto? Sì, chi fai? Ma non sai che il dobbino Ciro è stato ricoverato gravissimo a 10 anni? È gravissimo per un uccidente, ma che ci fai? Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, grave! Chi? Ciro, dove? Oddio, 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 oddio. Ciro, ho ricoverato l'ospedale, il figlio? Dona. Scusate, non so, tu hai un microfono, posso parlare? Sembra che sia successo questo incidente, non so a quale camera parlare. Dobbiamo chiudere il programma, penso, non so cos'altro fare, la signora Milo momentaneamente è impegnata per andare a soccorrere il figlio, che sta in ospedale, non abbiamo altre notizie e dobbiamo, vi terremo informati su questo ovviamente se sapremo qualcosa. Siamo presi alla sprovvista anche noi, scusateci di tutto quanto e di quello che è successo. Ancora scusateci e ci sentiamo domani. Arrivederci.